Sei nato per l'avventura? Comincia un'avventura tutta per te! Non farti spaventare! Tu sei implacabile! Devi cancellare ogni paura e il successo non ti mancherà! Partecipa all'azione! Sfrutta la tua velocità e non fatti intimorire! Comincia bene! Scegli il percorso che ti piace! Devi arrivare fino in fondo! Vai veloce! Prendi la mira e cerca di trionfare! Sprona il nemico e distruggilo finché sei in tempo! Ma attento! Tocca a te! Finalmente il mondo del gioco da tavolo incontra quello del fumetto d'autore per dar vita ad un prodotto completamente italiano a partire dal concept Zagor il gioco da tavolo di fatti ripercorre le vicende narrate nella serie fumetti Odissea Americana della Sergio Bonelli Editore E sono italiani anche i due autori Luigi Ferrini e Dalì Leursini così come la Ergo Ludo che lo pubblica nel 2016 Siamo marinai ingaggiati dal poeta Omerus Bennington per attraversare il fiume Tallapusa al bordo dell'Atena e superare tutte le insidie che incontreremo durante questa moderna odissea Lo faremo grazie anche all'aiuto di Zagor e del suo fedele aiutante Cico In questo gioco di esplorazione e combattimenti per 2-5 giocatori della durata di circa 90 minuti quindi si coopera per trarre in salvo il battello sino al forte ma ne uscirà vincitore solo colui che avrà totalizzato più punti Ora però meglio mettersi all'opera perché il setup è di quelli importanti L'enorme tabellone raffigura il corso del fiume Tallapusa e i territori circostanti Il battello che lo percorrerà è diviso in sezioni Dalla pila coperta dei gettoni stiva se ne rivelano 3 da piazzare in stiva Sul ponte partono le miniature di Zagor e Cico sulle basi rossa e verde e dei personaggi scelti dai giocatori tra i 5 disponibili su basi gialle Riempiamo i 6 spazi scafo con i relativi segnalini sul lato navigazione il retro e il lato crash Il segnalino battello parte dalla prima casella fiume Su tutte le altre piazziamo coperte le tessere pericolo fiume Ogni casella spiaggia ospita un incontro spiaggia a faccia in giù ed ogni foresta un incontro foresta comprese le due isole Nei rispettivi spazi vanno coperti i mazzi rinforzo, oggetto, tesoro ed evento Le altre carte sono i poemi, separati per dorso Se ne rivela una per mazzo all'esterno del tabellone Le altre sono escluse dal gioco All'interno del forte poniamo i segnalini cicatrice Ogni giocatore inoltre vi conserva il suo segnapunti Gli altri componenti di cui ciascuno dispone nel proprio colore sono la plancia e i balloon raffigurati posti sul lato sano il retro e il lato ferita Il personaggio viene equipaggiato sin dall'inizio con tre oggetti Se in gioco Bennington possiede anche tre boccette Sono a disposizione di tutti le plance di Zagor e Cico con i rispettivi balloon Di dadi gialli ne vengono utilizzati tanti quanto la somma dei balloon sulle plance dei personaggi in gioco più quattro dadi russi e tre verdi per i balloon sulle plance di Zagor e Cico Sempre all'esterno del tabellone conserviamo impilati a faccia in giù gli scimmioni e il loro capo i pinnacoli di pietra, i vulcani e il dado attacco Completano i componenti le carte riassuntive e tutto quanto impiegato solo nella variante nemici ovvero le carte nemici e relative tessere le carte aquila e le belve del Black River Se Moreland è in gioco è il suo il timone del primo giocatore altrimenti viene assegnato a caso prima di iniziare Lo scopo del gruppo è trarre in salvo l'Atena sino al forte se questo avviene solo colui che avrà conseguito il maggior numero di punti vittoria sarà il vincitore La partita si svolge in round composte da queste fasi Durante la prima il timoniere lancia tanti dadi gialli quanti sono i balloon sul lato sano sulle plance dei giocatori e tanti dadi rossi e verdi quanti i balloon sul lato sano di Zagor e Cico dunque 11 dadi gialli, 4 rossi e 3 verdi e una volta lanciati li piazza nelle 3 sezioni secondo l'azione raffigurata Segue la fase azioni nel corso della quale a partire dal timoniere e proseguendo in senso orario al suo turno ciascuno sceglie un dado sul tabellone e lo scarta all'esterno per eseguirne l'azione mostrata Queste sono tutte le possibili Il timoniere Moreland sceglie questo L'azione su un dado giallo è sempre effettuata dal personaggio che l'ha scelto In questo caso è Moreland a muoversi e attaccare Il personaggio può eseguire un numero di passi pari o inferiori a quelli raffigurati sul suo balloon sano più a sinistra Moreland sceglie di sfruttare tutti i suoi 3 passi e trovandosi sull'Atena quindi di fatto in questa casella può prodare sulla spiaggia Non è mai possibile varicare i bordi rossi o terminare il movimento in acqua pur essendo attraversabile Le frecce non influenzano il movimento dei personaggi La casella ha una tessera coperta per cui Moreland la scopre e vi incontra dei trafficanti di whisky da affrontare in combattimento Nel caso fossero state presenti più tessere il giocatore ne avrebbe affrontato solo una scelta Se presente, ciò che si verifica per primo è l'effetto sorpresa in basso a sinistra Nello specifico questo impone a Moreland di scartare uno dei suoi oggetti equipaggiati Il timoniere sceglie la mappa Scartare un oggetto vuol dire riporlo scoperto nell'apposito spazio della cambusa Poi si risolve il combattimento, confrontando la forza del personaggio e quella dell'incontro Ci sono tre tipi di incontro, gli umani, gli animali e i luoghi I trafficanti naturalmente sono umani, il che condiziona le armi con cui vanno affrontati La forza di Moreland è data di fatti dalla sua forza base, uno, più i modificatori che danno tutte le sue armi efficaci contro gli umani Nel suo caso il più uno della lancia, più il modificatore dell'arco corrispondente al lancio del dado bianco Il risultato di 2 rende un ulteriore più 3 per una forza complessiva di 5 Ma Moreland può sfruttare al massimo la lancia, scartandola in cambusa, per raddoppiarne il valore di attacco Arriva così a forza 6, superiore alla forza 5 dell'incontro Solo in questo caso l'incontro è sconfitto Moreland conserva per sé la tessera coperta e riceve la ricompensa in basso a destra Il punto esclamativo gli fa pescare prima una carta evento Il fondale sabbioso infligge due danni allo scafo, ovvero i due segnalini più a sinistra sul lato navigazione vengono girati sul lato crash L'evento va poi scartato sullo spazio corrispondente Solo dopo Moreland guadagna un tesoro Lo pesca dal mazzo e lo equipaggia coperto su un suo spazio libero Se invece in combattimento la forza del personaggio è inferiore a quella dell'incontro il personaggio è sconfitto e subisce una ferita ovvero gira sul lato ferita il suo balun sano più a sinistra Quando tutti i suoi balun sono sul lato ferito il personaggio sviene torna automaticamente sul ponte del battello e rigira sul lato sano tutti i suoi balun ma colleziona una cicatrice sulla sua plancia Con la sconfitta del personaggio l'incontro resta scoperto sulla casella potrà essere riaffrontato da chiunque lo raggiunga senza però subire l'effetto sorpresa Se infine c'è parità tra la forza del personaggio e quella dell'incontro nulla accade Il personaggio è illiso non guadagna ricompense e la tessera resta riaffrontabile La mano passa a Tattoo che sceglie un dado rosso Con un dado rosso o verde il giocatore non attiva il suo personaggio ma rispettivamente Zagor o Cico Il dado rosso potere speciale attiva uno dei poteri speciali riportati sulla plancia di Zagor Il giocatore sceglie il suo grido di battaglia grazie al quale può volare verso qualsiasi casella e attaccare Qui si imbatte nel luogo Minira maledetta che innanzitutto lo ferisce dove se svenire sarebbe il giocatore attivo a ricevere la cicatrice I due simboli rinforzo indicano che vanno pescate due carte rinforzo che aggiungeranno la loro alla forza base della Minira Furia selvaggia aggiunge un più 6 e sorpresa inaspettata raddoppia addirittura questo valore Dunque Zagor dovrà affrontare un incontro di forza totale 2 più 12 14 Zagor e Cico non ospitano carte oggetto ma in combattimento sommano alla loro forza base il modificatore corrispondente al risultato del dado bianco della loro arma Il risultato di 8 garantisce allo spirito con la scura e un successo automatico Lo stesso avverrebbe anche con la pistola di Cico ma questo simbolo indica comunque una ferita Scartati i rinforzi e tattoo a collezionare l'incontro ma le ricompense vanno in cambusa L'oggetto va scoperto, i tesori invece sempre coperti Frisco Kid sceglie un dado giallo potere speciale più evento Essendo giallo attiva il suo di potere speciale Con scaltrezza sceglie un compagno sul battello per derubarlo di un oggetto Poiché eccede oltre il limite del suo equipaggiamento è costretto a scartare uno dei quattro in cambusa Prima di scartare il dado deve pescare un evento ma possiede il sestante Una sola volta per round può girare questa carta per godere dell'effetto Frisco prende per sé un gettone stiva che viene immediatamente rimpiazzato Non c'è limite ai gettoni accumulabili ma il giocatore può sfruttarne uno soltanto per ogni dadoazione Girando il cannocchiale può sbirciare il primo evento e scegliere se rimetterlo in cima o piazzarlo in fondo Deve comunque pescarne uno e si tratta degli scimmioni Piazza tanti scimmioni quanti i personaggi in gioco compresi Zagor e Cico adiecentemente al battello o ad altri scimmioni per poi scartare la carta L'ultimo del primo giro di azioni è Bennington La sua particolarità sono le boccette d'inchiostro Può sfruttarne ciascuna una volta per partita per cambiare il colore di un dado Girando quella gialla trasforma il dado verde in dado giallo per sfruttare il suo potere speciale Ogni azione può essere eseguita anche parzialmente ovvero del suo potere Bennington può scegliere di sfruttare la parte di movimento ma non quella di attacco Se si è sul battello è possibile muoversi su qualsiasi altra casella indipendentemente dai propri passi Bennington in stiva ripara il crash più a destra e poi prende un gettone stiva L'evento che pesca è un permanente cioè si piazza negli spazi appositi in virtù dei cattivi presagi nella prossima fase 1 ogni giocatore lancia un dado giallo in meno Il giro ricomincia da Moreland che si rifornisce cura la sua ferita più a destra e pesca un oggetto dal mazzo Un modo per scartare gli eventi permanenti c'è Al suo turno Tattoo può sacrificare il proprio turno per scartare un dado di Zagor e i cattivi presagi che prende per sé Se avesse scartato questo dado avrebbe dovuto comunque pescare un nuovo evento Fresco Kid fa muovere e attaccare Zagor L'unica casella fiume su cui è possibile terminare il movimento è quella occupata dal battello Già che fermarsi qui vuol dire rientrare sull'Athena Zagor e Cico possono occupare solo il ponte e qui qualsiasi personaggio risana tutte le sue ferite Naturalmente sull'Athena l'attacco è perso Nel rientrare in battello un qualsiasi altro personaggio può scegliere quale sezione occupare Moreland occupa il forziere Qui è possibile riporre i propri tesori equipaggiati togliendoli dalla plancia e conservandoli coperti accanto a sé Per ogni tesoro così riposto il personaggio equipaggia un oggetto pescato dal mazzo Approdare sulla sezione timone invece consente di prendere il segnalino primo giocatore dal timoniere in corso ed equipaggiare uno degli oggetti a scelta o uno dei tesori a caso La fase termina quando non ci sono più dati azioni disponibili è qui che parte l'attivazione di eventi speciali come gli scimmioni si muovono tutti di una casella nella direzione delle frecce Chiude il turno il movimento dell'Athena che si sposta lungo il fiume di tante caselle quanti i simboli battello sul segnalino navigazione più a sinistra In corrispondenza del bivio è il timoniere a scegliere la direzione da prendere e la casella di Approdo rivela le rapide In questo caso l'Athena subisce un danno e avanza di un ulteriore spazio La nuova casella di Approdo rivela invece piante carnivore Questa tessera pericolo fiume infligge all'Athena tanti danni quanto la sua attuale velocità Questi danni però possono essere evitati già che a partire dal timoniere e procedendo in senso orario chi è sul battello sceglie se subire danni in luogo dei danni allo scafo e il timoniere che al suo turno decide di farne subire anche a Zagor e Cico se anche essi sono sul battello Se la casella di Approdo dell'Athena è una delle ultime quattro in aggiunta alla tessera pericolo fiume va rivelata anche una carta evento A inizio il secondo turno in cui si lancia un dato giallo, rosso o verde in meno per ogni ferita dei rispettivi personaggi e sempre in fase 1 si rigirano tutti gli oggetti coperti La partita prosegue così sino al verificarsi di una delle condizioni di fine partita La missione fallisce per tutti non appena l'ultimo segnalino scafo sul lato navigazione viene girato sul lato crash o quando uno scimmione raggiunge il suo accampamento La missione è riuscita invece non appena l'Athena oltrepassa l'ultima casella fiume attraccando così al forte o quando si esaurisce il mazzo eventi anche in questo caso il battello è posto sulla spiaggia Qui parte il conteggio finale Si tolgono dal tabellone tutte le carte evento Coloro che hanno terminato la partita a bordo del battello ottengono due punti Ogni tesoro equipaggiato o riposto nel forziele vari punti indicati così come tutti gli oggetti equipaggiati che ne danno Ogni cicatrice invece sottrae due punti Infine si assegnano i punti del poema La pagina sinistra assegna punti a tutti Nel nostro caso ciascuno ottiene due punti per ogni propria tessera spiaggia o foresta uno per ogni gettone estiva utilizzato ed uno per ogni evento permanente risolto La pagina destra invece premia con 5 punti solo colui che possiede la forza totale maggiore di tessere animali e luoghi con 4 punti chi ha più cicatrici e con 3 chi ha più carte tesoro In caso di parità tutti ottengono i punti Vince chi ne ha di più e in caso di parità chi è più prossimo al timoniere Perché questo titolo è passato in sordina? Eppure difficilmente ricordo giochi di esplorazione e combattimento così ben bilanciati ma comunque so per certo essere rarissimi quelli che integrano così bene il lato cooperativo e quello competitivo e pare tutto anche perfettamente coerente con la storia dico pare perché non conosco Zagor ma non si fa fatica a crederci basta dare una scorsa alle carte evento pur ignorando la serie comunque l'ambientazione si apprezza appieno anzi fa venire voglia di approfondire avrete notato materiali soddisfacenti in particolare voglio evidenziare le tessere incontro in cartoncino spesso e lucide in superficie ecco da 3 a 5 giocatori Zagor offre certamente il suo lato migliore, quello cacciarone in 2 diventa la classica partita tattica punto a punto ecco poi forse per quel che offre in 5 la partita può percepirsi un filino lunga e poi l'odicea americana di fatto già contiene la sua espansione proprio grazie ai 5 nemici se ne mescolano 1 o 2 tra gli incontri in foresta e una volta rivelati sono più forti hanno differenti effetti di ingresso e di final round e differenti ricompense a seconda se siano battuti dai giocatori o da Zagor e Cico insomma cosa volete di più? una fettina di culo? musica 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 musica